Novena San Cristina dell'Ellis nel tempo del coronavirus Per quella speciale predilezione che ebbe di voi il Signore nel far venire la luce da madre stessa genaria nel far precedere dalla vostra nascita, dalla visione di un fanciullo che portava innanzi agli altri una croce sul petto otteneteci io glorioso San Camillo di sempre corrispondere fedelmente a tutti i disegni di Dio sopra la terra Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Per quell'eroica predisoluzione che voi faceste nell'età di 25 anni di abbandonare tutte le pompe e tutti i piaceri del secolo per dedicarvi agli esercizi della più stela penitenza dell'Ordine di San Francesco otteneteci io glorioso San Camillo di convertirci almeno adesso sinceramente al Signore per non arpecarci nell'avvenire che alla crocefissione dei nostri appetiti e alla santificazione dell'anima nostra Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Per quell'ineterabile pazienza con cui tolleraste per ben 40 anni gli spasi di quella piaga che mi stette sempre aperte e sanguinosi in una gamba otteneteci, oh glorioso San Camillo, di soffrire sempre in pace tutte le infermità e le traversie con le quali piacesse al Signore di mettere a prova la nostra fedeltà Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Per quella dentissima carità per cui faceste la vostra delizia di servire personalmente gli ammalati più difficili fino a rinunciare perciò il supremo grado dell'ordine da voi istituito otteneteci, oh glorioso San Camillo e la grazia di sempre riconoscere Gesù, Cristo nei bisognosi nostri fratelli o nel prestar loro sollecitamente ogni possibile soccorso Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli Amen Per quello speciale aggredimento che mostrò il Dio nel vostro ordine coro spedire i suoi angeli a suggerire ai vostri compagni le parole più opportune al conforto dei moribondi come li vide San Filippo Impetrateci, oh glorioso San Camillo, la grazia di operare sempre in maniera da meritarci col compiacimento di Dio tutti gli speciali favori e la sua particolare assistenza Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli Amen San Camillo prega per noi Preghiamo O Dio che hai mandato nel mondo il tuo figlio un getto non per essere servito ma per servire E dalla sua vita per i fratelli concedi che sorretti all'esempio e all'intercessione Che i sacerdoti San Camillo Siamo sempre fedeli alla nostra conservazione in servizio e in fe Per il nostro Signore di Dio Cristo, tuo figlio, che è Dio Che viviamo con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli Amen Che i sacerdoti Che i sacerdoti Che i sacerdoti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alleluia